Grande successo ieri per la tradizionalissima Polenta e Mortadella, organizzata nella nuova location del Parco del Pernone a Varone, grazie ai volontari dell'omonimo comitato. La splendida giornata di sole ha svolto un ruolo importante, ma è stato soprattutto il clima di festa e la voglia di stare insieme che ha spinto migliaia di persone ad esserci già dalla mattinata. Ben 1800 corridori hanno partecipato alla marcia non competitiva quattro passi in attesa di Polenta e Mortadella, inaugurando un'edizione da record anche se segnata dalla mancanza del presidente Gino Marchi, scomparso lo scorso anno nel giugno, mentre cercava di salvare il figlio dalle onde del mare in burrasca sul litorale Ravennate. A lui gli amici del gruppo Iniziative Varone hanno voluto dedicare un trofeo che è stato assegnato al gruppo Insieme per Gino, capitanato dalla sorella Sara. Alle 14 è scattato il momento più atteso con la distribuzione di una trentina di polente accompagnate da circa due quintali di mortadella.